L'anno scorso due comuni e un teatro, quello delle energie. Quest'anno due comuni, due teatri e una stagione, quella delle sinergie. E già, perché San Benedetto e Grottamare si uniscono nel segno della cultura e del teatro, con un'unica stagione allesita dall'AMAT, è presentata ufficialmente oggi alla presenza degli assessori comunali e dell'assessore regionale per il Piceno Sandro Donati. Si parte il 19 novembre a Grottamare con le conversazioni di Anna Cappa, interpretato dalla grande Giuliana Loiodice, per poi proseguire il 28 al Concordia con Senza Swing, spettacolo prodotto da Ballandi con il travolgente Fabio Insinna, ma altri nomi si alterneranno sui palchi riveraschi, da Monica Guerritore con Dall'Inferno all'Infinito, alla Danza della Compagnia Junior del Balletto di Toscana, dal Pirandelliano Leagullotta nel Piacere dell'Onestà, a Tosca e Massimo Venturiello nella trasposizione teatrale della Strada di Fellini. Gilberto Santini, direttore dell'AMAT, parla di una stagione congiunta che segue però due filoni distinti, uno del pensiero e uno della passione. Ogni teatro ha davvero la sua fisionomia, la sua identità, il teatro di Grottamare, il teatro delle energie, sviluppa questo interesse, questa passione che è anche dell'amministrazione comunale tutta, legata proprio al pensiero, al pensiero quando si fa letteratura, quando diventa parola. Quindi è una stagione che io chiamo con l'avventura della ragione. E quella di San Benedetto riflette la fantasia e l'eclettismo di una città ricca e briosa e per cui combina in un'apparente festa quelli che sono esperienze molto diverse, proprio volendo offrire appunto uno sguardo a 360 gradi. A Grottamare arriverà anche in esclusiva regionale Porcile di Perpaolo Pasolini, mentre a San Benedetto sbarcherà a Scagno Celestini con la pecora nera e la maratona di New York, spettacolo prodotto nell'ambito della locale Officina Concordia. Insomma, tutto è pronto in Riviera per ospitare una stagione che, usando un gioco di parole, sa come concordare le energie. Non rimane altro che fare silenzio in platea e aspettare che si alzi il sipario.